I sepolcri non indicano la deposizione Cristo morto ma gli altari della reposizione. Consagrazione degli oli santi. Questa mattina alle 9.30 nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime ha avuto luogo la Messa Crismale che è la celebrazione eucaristica preseduta dall'Arcevesco e alla quale hanno partecipato e hanno concelebrato tutti i presbiteri della Diocesi. Questa Messa vuole significare l'unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Arcevesco e nel corso di essa vengono consacrati gli oli santi, il Crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. Inoltre tutti i presbiteri rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione. Nel pomeriggio, sempre in Santuario, la Messa in Cienadomini con il rito della lavanda dei piedi. Un nome popolare che spesso trae in inganno. I sepolcri, infatti, non indicano la deposizione di Cristo morto. La loro esalta definizione liturgica è quella di altare della reposizione, cioè del tabernacolo, che accoglie l'eucaristia appena istituita durante l'ultima cena. Questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti, fate questo in memoria di me. L'altare della reposizione è quindi il luogo in cui nella liturgia cattolica viene riposta e conservata l'eucaristia al termine della Messa Vespertina del Giovedì Santo, la Messa nella Cena del Signore. Dopo la Messa in Cienadomini, in piena notte alle 23.30 a Palazzo della Credi, la processione del Cristo alla Colonna, dalla Basilica di San Paolo alla Chiesa di Sant'Antonio. Da quest'ultima chiesa a mezzanotte, il simulacro di Maria Santissima Adornata in processione per via Garibaldi e via Roma, fino alla Chiesa Madre. A Sortino, dopo la processione della Domenica delle Palme, che per la prima volta ha preso il via dalla Chiesa dell'Annunziata, restaurata da poco, giovedì 28, la visita agli altari della reposizione presso le Chiese Cittadine, con la banda che sui Sagrati esegue marce funebri. Prima dell'alba del Venedì Santo, alle 4 della notte, un numero geso, la suggestiva e tessissima processione della Stato del Cristo alla Colonna per le vie del Paese, con la partecipazione dell'intera cittadinanza e i falò.